Abbiamo assistito a tanti balletti in questi giorni, tante parole, il sindaco che si preoccupa di tutta questa situazione, ma come spesso accade c'è un atteggiamento un po' gattopardiano perché grandi incontri, tanti incontri, poi però tutto muove per nulla muovere, sembrerebbe. E allora noi con questa interrogazione vogliamo andare proprio nel merito della questione, anche per denunciare il fatto che questo progetto è stato calato assolutamente dall'alto, senza nessun coinvolgimento dei cittadini stessi, un progetto che oltretutto non ha avuto secondo noi neanche una supervisione dei politici da parte dell'amministrazione locale ma solo dei tecnici. E appunto questo ha fatto sì che ci sia stato un grandissimo malcontento per l'ubicazione di certe strade. L'esempio è quello di Tombaccia e quello che porteremo in Consiglio Comunale, una strada nuova che taglierà a metà praticamente il quartiere di Tombaccia e confinerà almeno tre o quattro abitazioni in una specie di triangolo di cemento tra tre strade diverse, senza quasi possibilità di uscita. Quindi ecco, è una situazione che deve essere assolutamente cambiata. Noi a questo punto facciamo delle proposte. Una, innanzitutto per quanto riguarda Tombaccia, è lo spostamento di alcune decine di metri del rotatore della strada verso monte, creando così uno spazio nuovo, diverso, per cui la nuova strada non andrà a tagliare a metà Tombaccia ma si posizionerà nel retro dell'abitazione, quindi il quartiere e la zona sarà abbastanza tutelata da questo punto di vista. Ma più in generale, per un'opera che sono le opere compensative della terza corsia che costano circa 70 milioni di euro, proponiamo l'istituzione di un ufficio preposto, di un gruppo di esperti preposto da parte del Comune per far sì che tutto il progetto sia vigilato nel miglior modo possibile e che praticamente ci siamo possibili fare queste piccole modifiche che anche noi abbiamo proposto ma che ci potrebbero essere anche da parte di altre persone, dagli stessi cittadini, in modo che si possa verificare la fattibilità e poi la completa realizzazione nel miglior modo possibile di queste opere.